oggi siamo venuti al parco rifugio di pavia insieme a noi matteo e vera innanzitutto ben ritrovati e poi chi è insieme a noi anche oggi insieme a noi abbiamo ulisse e tania sono un po la strana coppia del nostro rifugio sono due cagnotti abbastanza adulti tania circa sulla decina d'anni ulisse la pettorina rosa non è indice del sesso noi li abbiamo presentati come una coppia spiegaci bene perché che stariano come potete vedere sono molto legati uno all'altra loro vengono da un'altra sezione da gioia tauro dove sono stati ritrovati in questa sezione stazione del treno abbandonata dove vivevano insieme erano scheletrici vivono un po come i cani del paese e sono cresciuti insieme tania sembra che sia presa cura un po la mamma di ulisse in un certo senso questa storia che è molto tenera però ha quindi anche un risvolto molto pratico poi ai fini dell'adozione cioè che loro dovrebbero essere adottati anzi devono essere adottati insieme assolutamente si tratta di una delle pochissime adozioni di coppia forzate che abbiamo perché quando stanno insieme si completano e sono tranquilli mentre cosa è successo quando tania si è allontanata da ulisse e ulisse è andato in continua ricerca c'è stato anche un periodo in cui abbiamo dovuto tenere tania lontana da ulisse perché stava facendo una terapia per la leismania da cui purtroppo lei affetta e in box da solo ulisse era in completo stress quasi una forma di depressione si potremmo dire di sì sono fondamentalmente due cani molto tranquilli amanti delle coccole come potete vedere in particolar modo tania purtroppo non è amante dei gatti sconsigliamo di inserire una coppia come loro già formata con i loro equilibri con un terzo cane perché potrebbe rischiare di sovvertire degli equilibri che sono già piuttosto formati essendo che loro hanno circa una decina d'anni hanno più hanno meno che generi di famiglia cercano? loro potrebbero anche essere adatti a persone alla prima esperienza sono cani molto tranquilli di facilissima gestione il giardino non è una prerogativa per loro quando sono insieme sono molto affettuosi e dolci anche da guardare quindi noi speriamo che trovino una casa ricordiamo e sottolineiamo che devono avere una casa insieme devono trovare lo stesso padrone perché non possono essere divisi e grazie allora nessun problema per adottare o avere ulteriori informazioni basta contattare il canile EMPA di Pavia al numero 3381351949 anche su whatsapp o mandando una mail a pavia-empa.org